Bentornati nel mio canale, oggi facciamo il sanguinaccio, una crema al cioccolato di carnevale che si mangia con biscotti o le famose chiacchiere. Vi metto qui in alto anche la ricetta delle chiacchiere. Per fare il sanguinaccio ci occorre 100 g di cacao amaro, 150 g di zucchero e 40 g di farina 00. A parte tritiamo 50 g di cioccolato fondente. In un pentolino mettiamo ad intiepidire mezzo litro di latte che potete aromatizzare con vaniglia e cannella. Ora mescoliamo tutte le polveri, cacao, zucchero e farina. Aggiungiamo il latte caldo alle polveri e mescoliamo tutto perbine e riportiamo sul fuoco a fiamma bassa e mescoliamo di continuo. Al primo bollore aggiungiamo il cioccolato fondente tritato e facciamo sciogliere. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo anche un bicchierino di liquore strega. Mescoliamo e facciamo addensare. ecco pronto il sanguinaccio pronto per essere gustato con biscotti o chiacchiere di carnevale. potete aggiungere anche del cedro o delle gocce di cioccolato per aromatizzare. Il vero sanguinaccio si fa con il sangue, lo so, con il sangue del maiale appena ucciso ma io preferisco questo. Il sanguinaccio potete conservarlo in frigo per una settimana. Lasciami un like e un commento e iscriviti al canale. E buon carnevale a tutti voi. Mi raccomando fate anche le mie chiacchiere. Ciao! Ciao!